Una situazione tutto sommato sotto controllo, salvo alcuni specifici ed isolati casi oggetto di continuo monitoraggio ed intervento per assicurare il pieno recupero. Così Sei Toscana risponde alla lettera pervenuta dall'autorità di ambito con la quale gli veniva intimato di ripristinare il servizio di raccolta rifiuti. Purtroppo, si legge nella nota, la situazione in alcuni territori può essersi enfatizzata in conseguenza dell'afflusso turistico e delle importanti temperature delle ultime settimane. Sei Toscana risponde anche alle critiche in merito al ricorso a forme contrattuali flessibili per i lavoratori, ribadendo di operare nel pieno rispetto della normativa, avendo peraltro un dialogo costante e approfondito con le organizzazioni sindacali. Purtroppo, si legge nella nota, l'assenza di un piano di ambito a distanza di oltre cinque anni dalla stipola del contratto di servizio e la conseguente necessità di determinare anno per anno i servizi senza la dovuta prospettiva di medio-lungo periodo determina un oggettivo ostacolo all'attuazione da parte di Sei Toscana di una politica del personale strutturata e strutturale che sappiamo bene essere uno degli elementi cardine per l'efficienza aziendale.